Il Festival Traccia di Sciomano, oltre a numerosi sponsor privati, è sostenuto anche da Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comunità Montana di Valle Camonica, Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, gruppo istituzionale di coordinamento del sito UNESCO numero 94, Arte Rupestre della Valle Camonica. Valle Camonica è la Valle dei Segni, dai comuni che ospiteranno gli spettacoli Borno, Breno, Cevo, con uno spettacolo che nasce dalla collaborazione con il Museo della Resistenza, Darfo Buario Terme, idolo che ha ospitato la conferenza stampa di presentazione Pasparto Episodio. È una festival della canzone d'autore che è presente sul territorio ormai da diversi anni, è stato forse il primo dei festival con questa compiutezza, e con questa ampiezza che coinvolge l'intera valle e si dimostra ogni anno di un livello davvero straordinario per qualità e un contributo per la cultura della nostra valle che è un grande esempio per tutte le altre manifestazioni che sono presenti in valle. Un festival, quello che si ripropone con le tracce di Sciomano, nato per rendere omaggio ad uno dei beni più preziosi della nostra terra, le incisioni rupestri Camone, primo sito italiano ad essere stato inserito nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Una promessa che è stata mantenuta perché negli anni tutti gli artisti che hanno partecipato alle diverse edizioni del festival hanno in qualche modo fatto riferimento alle nostre incisioni rupestri che rimangono comunque il bene che noi dobbiamo far conoscere al mondo. E quindi un festival che ha mantenuto le promesse ma che soprattutto oggi ci fa capire che forse siamo verso l'uscita da questo periodo drammatico e quindi ha il coraggio di riproporsi e di mantenere quello che ha avuto sempre come funzione e ruolo, cioè essere un vero e proprio festival di territorio.